Sono le 13.30 in via De Gasperia d'Ancona, è arrivato il furgone della ditta che rifornisce di gasolio il palazzo. Viene tolta la grata del tombino per far scendere il carburante. Emiliano Pierantoni, 41 anni, titolare delle poste express al civico 14 sposato e papà di due ragazzini, esce dall'agenzia, forse ha alcuni pacchi in mano. Un passo di troppo e fa un volo di 7 metri e mezzo giù nel tombino. Precipita, come dal secondo piano di un palazzo. I vigili del fuoco soccorrono l'uomo scendendo nei sotterranei del condominio, poi lo portano con una barella nell'ambulanza che lo attende in strada. L'uomo è cosciente quando viene soccorso, ma riporta diverse fratture agli arti. Le sue condizioni al momento sarebbero piuttosto gravi. È in prognosi riservata all'ospedale regionale a Torrette di Ancona. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Municipale di Ancona che stanno ascoltando alcuni testimoni e gli operai della ditta incaricata per il rifornimento di gasolio che sostengono di aver posto davanti al tombino dei birilli per segnalare il pericolo.